buongiorno a tutti quanti questo pomeriggio si crepa di caldo e il caldo vero arriva mercoledì che danno 45 e 47 gradi l'anno poi si vedrà lunedì 17 luglio 23 siamo qua a Brocherio appena finito di lavorare vediamo quanti gradi sono fuori alle ore 17.54 circa ci sono 49 gradi 49 gradi 17.49 minuti figa se fa caldo 49 gradi figa si bulle di caldo si bulle dai ci sentiamo questa sera ciao a tutti ciao ciao